Carissimi fratelli e sorelle, pace e bene. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a noi. Buongiorno a voi, buongiorno a noi, buongiorno a tutti e buongiorno per tutto il giorno. Buongiorno, meditiamo il Vangelo di Giovanni, capitolo 1, versetti 29 a 34. In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Egli è colui del quale ho detto, Dopo di me viene un uomo che è avanti a me, perché era prima di me. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell'acqua, perché egli fosse manifestato a Israele. Giovanni testimoniò dicendo, Ho contemplato lo spirito di scendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha mandato a battezzare nell'acqua mi disse, Colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo spirito è lui che battezza nello spirito santo. E io ho visto e ho testimoniato che questo è il figlio di Dio. Parola del Signore Oggi celebriamo la seconda e domenica del tempo ordinario, l'anno liturgico A. Logicamente dovevamo leggere il Vangelo di Matteo, ma la liturgia ha voluto inserire questo passo del Vangelo di Giovanni. Per capire il motivo torniamo alla domenica scorsa. Abbiamo celebrato il battesimo del Signore. C'era lo spirito e c'è anche la voce del Padre. Lo spirito è venuto per consacrare Cristo e il Padre ha dato testimonianza. Dunque ha investito Gesù, figlio è suo. Dunque ha indicato che lui è il mio figlio. Allora, di caso qui qualcuno dubiterebbe della testimonianza del Padre, perché la voce era uscita dal cielo, non si vedeva nessuno, e oggi abbiamo la testimonianza di Giovanni il Battista. E' lui che dà testimonianza. Ho visto e ho testimoniato che questo è il figlio di Dio, che Gesù è il figlio di Dio. Allora, Giovanni, in che modo dà testimonianza? Indicando Gesù Cristo come agnello di Dio, colui che viene a salvare il mondo, a togliere il peccato del mondo. Il peccato del mondo è proprio renegare, non conoscere il padre, non conoscere il figlio. Questo è il peccato del mondo, al di là dei nostri peccati. Giovanni Battista indica Gesù Cristo come questo agnello. Ma che tipo di agnello sarebbe? E qui potremmo riflettere e pensare alla Pasqua, all'uscita della Pasqua, la veglia pasquale nell'Egitto. Hanno mangiato questo agnello, questo agnello che come animale che hanno sacrificato, per giustamente chiedere perdono al Signore, chiedere scusa al Signore, e chiedere la misericordia di Dio. Allora Gesù viene con il suo grande amore e la sua misericordia assume questo nome dell'agnello. Come per dire, ecco, è lui, non ci sarà più bisogno di uccidere gli animali, ma è proprio Cristo che assume questo nome. Dunque è finito il sacrificio degli animali. Gesù sarà dunque questo agnello di Dio, quello che si chiama il servo del Signore, di cui ci ha parlato la prima lettura. Il mio servo che ho scelto, tu sarai la luce delle nazioni. L'agnello, qui ci riferiremo anche a Isaia, quando dice che come un agnello condotto a macerie, un agnello mansueto, Gesù anche sarà silenzioso durante la sua passione, morte e risurrezione. Dunque ecco questo agnello. L'obiettivo principale qual è? E' quello di salvare il popolo di Dio. Il servo del Signore viene non per compiere la sua volontà, ma la volontà del Padre. Dice il Salmo di oggi, ecco Signore vengo per fare la tua volontà. Ecco carissimi quello che ti dice il Vangelo di oggi. Dunque rafforzamento della testimonianza che abbiamo sentito domenica scorsa al battesimo di Gesù Cristo. E oggi ciascuno di noi è invitato a essere un Giovanni Battista per indicare Cristo a tutti questi che non lo conoscono o che l'hanno ignorato o che l'hanno abbandonato. Noi conosciamo dei nostri fratelli, delle nostre sorelle che hanno abbandonato Cristo perché quello sacerdote l'ha fatto male, quello prete ha fatto quello, quella sorella ha fatto quell'altro, oppure ho pregato poi Dio non ha esaudito la mia preghiera, oppure sono arrabbiato con Dio perché Dio di qua, perché Dio di là, io non prego più, io abbandono, oppure anche delle persone che non conoscono proprio Cristo. Allora questa domenica siamo tutti invitati a essere un Giovanni Battista per indicare Gesù Cristo, mostrare Gesù Cristo ai nostri fratelli e sorelle che è Lui che verrà a salvarci. Dunque confidatevi in Lui, affidatevi in Lui, offrite tutto quanto a Lui e poi a quelli che hanno delle intenzioni di preghiera ha sempre questa opportunità di indicare Gesù Cristo con Lui che viene a salvare ciascuno di noi. Allora invochiamo lo Spirito Santo di fare di noi i veri testimoni della parola di Dio come nel nostro modo di vivere. Cerchiamo di essere luce delle Nazioni. Allora che lo Spirito veramente ci aiuti. Vi auguro una buona e salda domenica che Dio vi benedica sempre.